La prima carta che andremo a vedere è Savage Striker, è una carta minion del druido, un 2 mana 2 3, che come Battle Cry canta Fai danno a un minion nemico in base all'attacco del tuo eroe Ora, se noi leggessimo questa cosa probabilmente per un minion neutrale avrebbe avuto probabilmente un altro tipo di impatto Il fatto è che noi stiamo leggendo e stiamo guardando questo servitore con questo suo Battle Cry in una classe come il druido Allora, subito un paragone, no? Probabilmente non so quanti di voi possano conoscere la spell che si chiamava Savage Striker No, Savage Striker è questo, Savagery, era una spell a 1 del druido che diceva la stessa cosa che dice Savage Striker Cioè, fai danno a un minion in base all'attacco della tua arma Era una spell a 1, questo chiaramente invece è un servitore, quindi un qualcosa che comunque può mettere board Il fatto, il fatto è che questa carta qua, anche se ha un EV comunque positivo di più 0,5, che comunque è poca roba Vuole essere giocata sempre con l'osilo di altre carte, ok? Quindi, se noi solo proviamo, proviamo o immaginiamo a paragonare questa carta a quella che era il Valletto di Medivh Siamo dei pazzi, siamo dei pazzi schizzati perché il Valletto di Medivh non aveva, aveva bisogno del segreto Ma in una classe come il Tempo Mage, in cui i segreti magari te costano 0 perché giocati Dalla Kiri Core, è normale che il Valletto di Medivh aveva una value molto più grande Inoltre il Valletto di Medivh faceva 3 danni Questo fa danni in base al potere eroe Scusatemi, all'attacco dell'eroe, cioè del druido Quindi vuol dire che se voi la giocate di turno 4, questa entra come 2-3 che fa un danno Che mi sembra veramente, veramente poco scarsa Se la mettete in combo con carte... Bok, tuome, Bite Bite fa 4 danni Questa con Semana fa 4 danni più 4 di Bite Quindi a Semana potete fare comunque un potenziale di 8 danni Che non è male Per poter magari andare a trattare qualcosa di grosso come il Licio, non lo so Ma il problema è che quello che poi io mi fermo un attimo a pensare È che il druido, secondo voi, c'ha seriamente bisogno di questa cosa? Cioè, se voi adesso trapiannate questa carta Su uno stereotipo di gioco come quello del druido Che attualmente non è control Perché questa carta è control Questa carta è control Ed è una carta che presuppone l'utilizzo di altre carte E... Sì, va bene A 4 mana se c'è l'Iropavel di Marfurion Questa diventa un Valletto Ci sta Il problema è che è molto situazionale Il problema è che questa carta Se voi la molliganate in early game Non fa niente Questa carta in early game fa schifo Perché in early game È molto difficile che voi riusciate in qualche modo A sfruttare il Battle Cry È inutile, regà, che vi dico che in late game Sta carta fa schifo tanto quanto Perché ormai in late game Sfruttare un potere eroe di così basso impatto Non va bene Quindi, chiudo dicendo Perché sta carta a me non piace E gli ho dato anch'io due Per non dargli uno, poveraccia Perché uno probabilmente è veramente il basso fondo Io credo che per poter Per poter giocare questa carta Dobbiamo radicalmente cambiare lo stile di gioco Che è il druido Quindi, passare da un gioco più control o combo Scusatemi, più combo o OTK A uno stile di gioco più control Ma è una carta che ha bisogno di supporto Per poter essere giocata Quindi, carte che riescono a far far danno A coso, lì, a Balfurion Come per esempio era la vecchia Spella 2 del Warrior Che dava più 4 attacco Già con quella a 4 mana Voi mettete 1, 2, 3 e fate 8 danni Ecco, già quella cambia Il drawback della carta è che non fa danni A un eroe Quindi, non facendo danni a un eroe Ma solamente a un minion Purtroppo, non puoi pensarla Come carta, eventualmente Di un aggro o mid-range druid E quindi, attualmente Non trova veramente spazio in nessuna parte Non mi piace per niente Non so quello che pensate voi Allora, il discorso è questo Che se uno mi dice che è forte Però mi deve motivare Il motivo per cui questa carta è forte Dire che questa carta è forte È impossibile Così come è impossibile Dire che questa carta non troverà mai gioco Infatti, come avete sentito Io non mi sbilancerò mai Per questa espansione Come ho fatto per la precedente Perché la precedente è andata malissimo Non mi sbilancerò Però dico che attualmente Questa carta è ingiocabile Perché non ha supporto d'altre carte E non serve al druido Soprattutto Perché al druido non serve Un qualcosa Che è un minion Che è come Battle Kai Fa danni Perché il druido Riesce comunque a mantenere la board pulita Ragazzi, il druido C'ha la spell più forte del gioco Che è Spreading Plug Finché tu puoi installare Con lo Spreading Plug Non te ne fotte un cazzo Di mettere 6 ciofeche Di servitori Che per funzionare Decentemente Questo era comunque il Byte Che per funzionare decentemente Richiedono l'ausilio Di altre carte Che altre carte Poi non ci sono Perché c'è Byte Ma Byte Ma Byte Ma Byte Non è mai entrata Nemmeno in arena Byte Presuppondi giocare Byte Perché c'è il Sabegge Striker È assolutamente ignobile Come cosa E soprattutto È una combo che te costa 6 mana Io penso che a 6 mana Per come noi conosciamo Arson Perché noi conosciamo il meta Vogliamo far qualcosa Di più Forte Una giocata Che ha un impatto Migliore sulla partita Non un 2-3 Che fa 8 danni Cazzo Non mi sembra proprio Una cosa buona È più una giocata difensiva Che offensiva Che fa il druido Quindi non mi piace Non mi piace Fa schifo L'unico modo Per essere quasi buona È sfruttare l'HP di Malfurion L'ho detto caro Bravo Bravo Te sei risposto da solo Bravissimo Quindi Se tu la giochi in combo Con Malfurion Vuol dire che tu stai dopo il turno 7 A meno che non è rampato Ma comunque stai in mid stage E in mid stage Far 3 danni Quasi sempre fa schifo È vero che se giochi contro aggro Potrebbe essere utile Sì Ma solamente in quelle situazioni E solamente quando tu Malfurion Non lo trovi prima del turno 7 Perché noi dobbiamo pure pensare una cosa Mio caro Nabbo Mio Mio vecchio Nabbo Vecchio È vecchio per il capello È arrivato Nabbo Ah no Di lì una sberla da porta mia Vuole che Una sberla Tira una sberla così da parte Va bene cari Penso che siamo stati abbassati Forse troppo Nabbo A caldo Come sta carta Quale? Savage Stryker Due Ma il cazzo Perché mi hai sentito Meglio un ogre Brava Ci sta Meglio un ogre 6-7 Che sta roba Hai ragione Però va bene Il fatto che non fa danni All'eroe nemico Ogni volta È sempre così Ogni volta Che il danno È circoscritto al servitore La carta perde ancora più potenziale Di quello che ne ha già Perché avesse avuto Il potenziale di far danni faccia Allora sarebbe stato anche decente Spring Pou Mi apri more per favore Il Il nostro pool È una 1 mana 1-1 Bestia per Hunter Che ha Rush Battlecry Aggiungi Un 1-1 Links Che è un'altra bestia Con Rush Alla tua mano Io ora vi chiederò una cosa No Io vi chiederò questa carta Cosa vi ricorda Voi non Voi non ditelo Perché non è quello Cioè nel senso La carta che La carta che vi ricorda Questa carta Era una carta Che era molto più forte Di questa carta Che assomiglia solamente Per concept Allora ragazzi Sta carta potrebbe assomigliare A Alligat Ma in realtà non è Alligat Perché Alligat Era molto più forte Di questa carta Alligat Per chi non la conoscesse Per chi non se la ricordasse Era un gattino 1-1 Che come Battlecry Evocava un altro gattino 1-1 Era un 1-1 Mana 2-2 Che vi metteva peraltro Due bestie in campo Cioè non era un 1-1 2-2 Come il corvo Che era fortissima del druido Era un 1-1 Mana 1-1 1-1 Che mettendovi due bestie Vi faceva sinergizzare In uno stile di gioco Come Mid Hunter Che era molto 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 forte Questa qui È un'altra carta umana Per il Per l'Hunter Sembra quasi che la Blizzard Così come fece Ti ricordi caro Per il Detrattor Rogue Che poi alla fine C'è riuscita Mannaggia a lei Cioè la Blizzard Erano due espansioni Che stavano a mettere Carte per Detrattor Rogue Alla fine C'è riuscita Il quadro Si è spianato Ha messo l'arma L'arma 3 mana 3-2 Che come il Rantolo di Morte Triggerava il Rantolo di Morte Ed è riuscita Scusatemi A creare un mazzo dignitoso Detrattor Rogue Così la Blizzard Sta provando A creare un mazzo dignitoso Di quest'Hunter Ma ancora non c'è riuscita E probabilmente Mi viene da dire Che non riuscirà a farlo Anche se questa carta Riesce ad upgradare Abbastanza velocemente La Quest dell'Hunter Io credo che la Quest dell'Hunter Sia Troppo poco consistente Per essere giocata Quindi Il deck in sé È troppo poco consistente Quindi Non mi piace tantissimo Detto questo però Detto questo Un altro paragone Che potremmo fare È anche la Firefly Cioè la Lucciola Forse il paragone Con la Firefly È ancora più veritiero Rispetto a quello Dell'Elicat Perché la Firefly È un 1-2 Che ti mette Un 1-1-2 in mano Questa è un 1-1-1 Che ti mette Un 1-1-1 in mano Con la differenza però Che le carte hanno Rush Ok Quindi quali sono Le possibili sinergie Cioè nel senso Il fatto che queste bestie Siano bestie Ed abbiano Rush Possono portare comunque A sinergie interessanti Beh Magari Magari proprio interessanti No Però alcune Ci sono Per esempio Con il Tox Con il Tox Che è una 4-mana 2-4 dell'Hunter Canta che ogni volta Che giochiamo Un servitore A costo 1 Diamo a quel servitore Poisonous E quindi Fondamentalmente È una giocata Che a 5-mana Ti tradda un servitore Non so quanto può essere forte In realtà Io pensavo Che anche il Plague Sa Il Plague Del Rogue Il 3-mana 2-3 Che come combo Da veleno Pensavo che quella carta Non venisse mai giocata In realtà poi quella carta È stata giocata Inizialmente In un Miracle In un Miracle Reset Rogue No Quindi questa Comunque potrebbe avere Una sinergia interessante In un deck Midrange Anche se Non so quanto può essere Più forte rispetto Ad Antesmark Inoltre il Tox Non è manco una bestia Quindi Il fatto che non sia Nemmeno una bestia Purtroppo È un drawback negativo Oh Però comunque La carta non è male Cioè perché gli hai dato 3 Allora uno potrebbe dire Perché comunque La carta secondo me Ha un tag Che è insito Indiretto Che è versatilità Secondo me questa carta In un Mid Hunter O se vogliamo In un Secret Hunter Non in Detrattolo Perché in Detrattolo Sta carta fa schifo In un Secret O in un Mid Hunter Questa carta è molto versatile È molto versatile Cazzo è un 1-mana Un 1-1 con Rush Bestia Che te ne dà un'altra Quindi che vuol dire Un 1-1 bestia con Rush Vuol dire che va in combo Con parecchia cosa Con parecchie cose Va in combo con il Luke Va in combo con l'Houndmaster Va in combo con il Direwolf Alpha Va in combo con la Iena Va in combo con il Calmaster C'è parecchie sinergie No? Quindi andando in combo Con tante carte Che poi possono formare Un Mid Hunter Rende la carta versatile Questa è Questa è Questa è per farla breve Quindi Se la scegliamo Se la vogliamo giocare Per Per un Mid Hunter La scegliamo Per la sua versatilità E credo che comunque Possa essere decente Non è assolutamente Una carta di merda Non è nemmeno Una carta probabilmente Meta Refining È una carta che comunque Può essere giocata È una carta che È nella media Non è né una merda Né una cosa che dico io Sbroccatissima Come è stata la Legat O come peraltro È la Talpa No? La Talpa ragazzi È un'unumana 1-3 Perché sostituire la Talpa Questa? È Boh Non lo so Penso che comunque La Talpa che si chiama In inglese Dire Maul Penso che sia ancora superiore Allo Spring Po In un deck di tipo Midrange O Agro Hunter E andiamo a vedere Un'altra carta per Hunter Un'altra spell per Hunter Che è il Beta Darrow Che è una carta particolare Quando io dico che è una carta particolare Dico che è una carta Dico che non è una carta forte Perché uso particolare Per dire non forte Magari dico che è una merda Magari no Però sicuramente Non è una carta che secondo me Questa è forte Ora Magari ho influenzato La vostra votazione Ma io credo che voi Siete abbastanza arguti Per capire comunque Che questa carta Ha dei problemi Perché secondo me Fin quando Il Hunter Può godere Dello Strike No? Finché Hunter Ha Flanking Strike Uno si chiede Perché giocare Il Beta Darrow Cioè Secondo voi Il Beta Darrow È una carta Che ha più consistenza Rispetto Che al Flanking Strike Questo dobbiamo pensare Perché avere Il Flanking Strike È il Beta Darrow Nello stesso deck È pura follea Quindi dobbiamo Semplicemente capire Se il Beta Darrow Sia una carta Più consistente Quindi migliore A prescindere poi Dal deck Che giochiamo Perché come avete visto Il Flanking Strike Si gioca in qualsiasi tipo Di deck Cacciatore No? Quindi a prescindere dal deck Bisogna semplicemente capire Quale delle due carte È meglio Da una parte abbiamo Il Flanking Strike Che ha 4 mana Fa 3 danni Ed è evocato A 3-3 Sempre Non fa danni faccia Dall'altra parte Abbiamo il Beta Darrow Che fa 3 danni Come il Flanking Strike Costa un mana in più Ma per evocare Un 5-5 Che poi è la cosa Che a noi interessa Dobbiamo sfruttare L'overkill Ora cos'è L'overkill Per chi Per i pochi Che ancora Non lo sapessero L'overkill Si procca Quindi attiva Un effetto Che in questo caso È evocare Un 5-5 Solamente Quando il danno Che voi fate È maggiore Rispetto Alla salute Del servitore Che avete attaccato Quindi questo Significa Che il Beta Darrow In maniera Molto banale E semplicistica Può essere visto Come una 5-5 E fa i due danni Secondo voi Una 5-5 E fa i due danni È una carta buona Secondo me Una 5-5 E fa i due danni Non è una carta buona Vero che il Beta Darrow Può fare anche 3 danni in faccia No? E questo magari Gli fa danniare Quel mezzo punto in più Rispetto Al 3 damage Only 2 minion Però credo ancora Che il Beta Darrow Non sia una carta forte A 5 mana Voi fate due danni Quindi dovete Uccidere un servitore Che abbia Due di salute o meno Cioè A 5 mana Uccidere un servitore Che abbia Uno di salute o meno Vuol dire O giocare contro aggro Oppure Fare un trade Con un servitore in board Per poi giocare Beta Darrow Ma Con tutti i tool Che c'ha L'Hunter Per evocare Servitori a 5 No? Che sono veramente tanti Che sono Playted che costa 1 Lo stalker che costa 3 Possiamo giocare Il cubo sullo 0-3 Per evocare De 5-5 Ora Con tutti i modi Che ha l'Hunter Per fare De 5-5 Abbiamo bisogno Del Beta Darrow Per evocare Altri Devilsauro 5-5 Io credo di no L'unico pro Che c'ha sta carta E che può andare a faccia Cioè Penso che sia L'unico pro Che Paolo approva Che Paolo approva Chiaramente Che probabilmente Gli ha dato anche 4-5 L'unica cosa Che non fa Flanky Strike Per il resto Ragazzi Flanky Strike Secondo me È più forte Anni luce Rispetto a Bede Darrow Perché per solamente Umane meno Voi Sicuramente avete Una 3-3 Che è peraltro Una bestia E inoltre Avete A disposizione Cioè Inoltre fate 3 danni puliti Cioè fate 3 danni Fare 3 danni Invece che 2 o 1 Vi assicuro Che su Arson Soprattutto In early Mid stage È una cosa Molto 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 Forte No Quindi a me Sta Beta Darrow Attualmente Non mi convince Troppo come Carta per Hunter È uguale Alla spell Bravo caro Mi piace la tua idea È molto simile A Bain of Doom Sì 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 È molto simile A Bain of Doom Secondo me Questa carta è più forte Di Bain of Doom Peraltro ieri Mentre me la studiavo Mi sono letto pure Le probabilità Di Bain of Doom Di trovare Un qualcosa Più forte Della 5.5 E mi pare Che le probabilità Fossero meno Della metà Quindi come Consistenza Questa carta È più forte Di Bain of Doom Il fatto Che Bain of Doom Come voi Ben sapete Veniva utilizzata Come carta Semi troll Non dico troll Semi troll Il più delle volte Bain of Doom Non veniva giocata Perché altamente RNG Alcuna delle volte Vero Io mi ricordo Quando giocavo Il vecchissimo Demon Lock Prender Malganis Non era una cosa brutta Prender Malganis Della Bain of Doom Però Il drawback Che prendere comunque Il Void Volker Il Flame Imp C'era il 2-4 E comunque il 2-4 Era molto forte Per carità di Dio Il 2-4 L'Imp Quello era bestiale Però Sai Talvolta prendevi Demoni Che erano veramente Di scarso impatto Al turno 5 Oh Raga È normale Che ci sono Magari Delle combo Che potete fare Una delle combo Che potete fare È con Ante Smark Dio caro Spendere i 6 mana Per tradare un qualcosa E mettere un 5-5 Giocando 2 carte Non mi sembra Il massimo Dell'efficienza Per un deck Cioè alla fine Il marchio Del cacciatore È molto forte Quando vai Vede l'arma settata Non mi serve Di giocare Ben Haro O come si chiama Adesso La freccia Qua Bete Darro Quindi Io credo Che la combo Con Ante Smark Sia parecchio Scarsa Pioggia di rospe Carta d'arena Forte Mattia Ti pidi che si userà Per installare Sta carta Bene Partiamo da questo Cadio Esattamente quello Che credo io Troppo Verlord È quello che credo Ma siete bravissimi siete Fa schifo Allora Questa carta cari Ha una sola E unica Ha un solo obiettivo Sta carta Ha un solo potenziale Qual è il potenziale Dessa carta Lo dice Ico Carta Control Che stalla Sta carta stalla C'è poco da fare Voi a semana Di averlo dateli 3 Che secondo me Tantissimo E la renderà probabilmente Ingiocabile Non fa niente Evocate 3, 2, 4 Contaunt Ora Se può provare a fare Dei paragoni Su questa carta Rispetto a quelli Che abbiamo adesso Per sciamano Perché io credo Che se noi ci azzardiamo A paragonare Sta carta Spreading Plug Moriamo Appena lo pensiamo Spreading Plug Ragazzi attualmente Secondo me È la spell più forte Del gioco Spreading Plug Lavora Con la board avversaria Se l'avversario Sa 7 servitori Spreading Plug Evoca 7, 1, 5 Se l'avversario Sa 7 servitori Rain of Toads Evoca 3, 2, 4 Contaunt E vi overlordate Overlordate Poi vabbè Italianizzato Di 3 Quindi non ha niente a che fare Con Spreading Plug Spreading Plug Che è 10.000 volte più forte Di Rain of Toads Però Per lo sciamano Rain of Toads Potrebbe assomigliare In qualche modo Ai lupi spiritici No Ti ricordi lupi spiritici 3 mana Evoca 2, 3, 2, 3 Contaunt Overlord di 2 E ride Scusa La lana sempre più malessa Di Tatillo Chiaro Mi sembra giusto Se vogliamo trovare Un altro paragone È una sorta di Phantom Milizia Potenziata È come una Phantom Milizia Che costa 9 Che però in realtà Costa 9 Perché l'overlord Di 3 Ti eleva poi 3 mana E il turno dopo Ora La domanda che pongo io È Secondo voi Per uno sciamano Control Che sia esso Ciccia Zampa Che sia esso Overlord sciaman Stallare Ed evocare 3, 2, 4 Contaunt Serve come cosa? Potrebbe essere utile? Secondo me no Secondo me no Lo sciamano Ha già altre carte Che fumano Comunque da removal Molto importanti Secondo me Il fatto che al turno 7 Lo sciamano Abbiano Overlord di 3 Lo rende veramente Un drawback Troppo negativo E quindi Sì è vero Che invece Ciccia Zampa Potrebbe essere Un tool ulteriore Per stallare Dopo Lightstorm Dopo Vulcano Dopo tutte le cose Che c'ha ragazzi In me Ciccia Zampa Per stallare È una buona carta No Perché comunque Ciccia Zampa Alla fine È un deck Combo Che però Inizialmente Deve fettere in board Quindi magari Metterci questa carta Per provare A fermare un attimo L'avversario Potrebbe essere interessante Se non fosse Che L'overlord di 3 Si farà sicuramente sentire Se non fosse Che questi 3, 2, 4 Vanno Vengono distrutti Da una carta Ormai in meta Ormai in meta Come il Non mi ricordo il nome È un 2, 6 Però Non mi ricordo assolutamente Il nome di quella carta Che è famosissima Il Moshior Il Moshior Quindi Si tremana Pesano o no? Pesano tantissimo Pesano tantissimo Cioè se uno vuole giocare Questa carta Ciccia Zampa No Cosa ci gode? A parte il fatto Che comunque Ha Un buon Un buon potere di stall Alla fine Con Ciccia Zampa Non vorca Con Tremox È un problema Perché poi alla fine Ti ripendi 2, 4 E non li vuoi È una giocata Che non gioca assolutamente Bene in Torm Ma in Control Voltage Quindi sai Non è che mi piace tanto A me sta carta Forse però Forse però Questa carta qua Anzi sono sicuro Che Sapete voi Quando trovate una carta Guarda Tipo questa qua No ora vi faccio Vi faccio capire subito Il volo Senza che Ecco il di capo Scusa Brava Ma che te la Ma quanto sei bravo Bravissimi Guarda che è mezz'ora Che lo scrivo in chat Però Eh lo so L'ho letto Ho capito Perché mi devo spogliare Alla car review Se poi leggo È una cosa che voglio dire Alla fine Capito? E che cazzo Lo Spring Pou Una delle forti potenzialità Che c'ha E non so se l'avete scritto Pure prima È il fatto che può essere Discoverata da Rekstar DK Quindi ora Oltre al Vicious Abbiamo un Umana 1-1 con Rush Che potrebbe Il Vicious chiaramente Ha anche Lifesteal Però un 1-1 con Mana Con Rush Non è male Se è discoverato da Rekstar DK Non è assolutamente male Per fare poi Qualche Bord Qualche Qualche value trade La stessa cosa vale per questa Secondo me È una carta che Se è trovata da Agatha In late stage Quando ormai l'avversario Ha utilizzato numerose risorse Questa carta Può essere veramente Veramente molto forte Quindi Approvata la carta Solamente perché Voi la potete prendere Da Agatha Per il DK Insomma Agatha Il DK del Ma il DK Che intendi Agatha Chiaramente Non Non Tra il DK Non quello di Evolve No Tra il DK Intendo io No io intendo Agatha Io intendo Agatha No io intendo Tra il DK Fai la combo che gli Evolve Eh ho capito caro Ma i 2-4 I 2-4 Che costi in Mana C'hanno Eh è quello il problema C'hanno 6 di Mana Ma mai nella vita Ma mai nella vita Aspettate Mai nella vita Scusa i lupi Scusa i lupi Aspettate un attimo Ma mai nella vita Che sono 3-2-4 Ma che dici I lupi sono 2-mana No Raga Se sono 3-mana È una grazia divina Ma io credo Che siano 2-mana 2-4 Oddio Magari no 3-mana I lupi sono 2-mana Se noi ragioniamo Se i lupi sono 2-mana Questi sono 3-mana Quindi voi giocate 3 lupi 2-4 A 3-mana Voi dite A stable evolution Io dico da no Cioè Raga Finché Secondo me chiaramente Tutto questo Finché noi abbiamo Il Saron e Chang'eng Penso che la combo Con A stable evolution Fatta nello stesso turno Sia molto più forte Rispetto a quella Fatta con Rino Io intendevo Agatha Ok No il dica Intendevo proprio Agatha Stacatta Per trovare l'Agatha Secondo me è molto forte Il late I lupi sono 3-mana Ti dicono No Sono 2-mana Raga i lupi Sono 2-mana i lupi Non mi Non mi traviate Dai Non mi traviate Io Non voglio ogni volta Essere un sognatore Eccetera Ogni volta dico Che le strade Sono aperte e spianate Per il Overload Shaman L'Overload Shaman Ancora purtroppo Non è giocato Questa qua Potrebbe essere un tool Ulteriore per l'Overload Shaman L'Overload Shaman Che tra le altre cose Gioca pure i giganti I giganti sono quelli Che costano un mana in meno Per ogni mana Overload dato Beh È un tool Nel senso L'Overload Shaman Purtroppo ha dei problemi seri Perché l'Overload Shaman Sai qual è il problema serio L'Overload Shaman È la rimozione Se tu becchi un deck Come il Control Warrior E tu giochi L'Overload Shaman Tu Sì chiaramente Io chiaramente Io come sai La prendo con sportività No la prendo con sportività E dico Caspiterina Sì sì Queste vanno tutti i santi L'Overload Shaman Attualmente ha dei problemi Che sono Single removal E silence Per quello cari L'Overload Shaman Ancora non si vede in meta Perché Va male contro silence Contro removal Contro aggro Va male È un casino Però sai Questa Scomba con Elettra Scusa Assolutamente sì Magari Giocata con Elettra Potrebbe essere interessante E con Elettra scomba È un'altra cosa Che ho pensato Sempre nell'Overload Shaman E comunque Se tu giochi Elettra Rain of Toads Tu fai un Overload di Semana Nel frattempo La Spelzone Si upgrada di 2 E con Elettra Bello mio Tu evochi 3-2-4 Contount Cioè fai un turno 9 Che mi sembra particolarmente discreto No Una 3-3 Che Elettra 9-2-4 Contount Mi sembra più che discreto Andiamo alla prossima Che è il Pyromaniac Il Pyromaniac Del Mage Mamma quanto L'è brutta poi Allora raga Pyromaniac È un 3-3-4 Per il Mage Ogni volta che il tuo eroe Uccide un servitore Pesca una carta Allora Io non so se partire Dall'altro il pro O il contro di questa carta Il pro di questa carta Ragazzi è chiaro Ed è forse l'unico motivo Perché voi State votando 4 O 3 5 pochi 4-4 5 pochi 5 pochi 2 Diciamo che L'agenda si divida Tra 4 e 3 La cosa positiva Del Pyro È il suo body Il suo body È una 3-mana 3-4 È un body Fortissimo Se pensiamo Comunque Che nel vecchio Mc Mage Si giocava Ti ricordi Il 3-mana 3-4 Si giocava Il 3-mana 3-4 Come stat No vabbè Si era un mec Però comunque Lo giocavi come stat Perché al turno 3 Rimuovere un 3-4 È una dimozione Molto 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 complessa No? Quindi come stat È sicuramente molto buona Come body Mi piace molto Il problema è Cercare di capire Semplicemente In che tipologia di deck Voi lo volete inserire Perché io credo Che se voi votate 4 Una carta Non è solamente Riferita al body Altrimenti pure l'Elec Allora vale 4 No? Perché anche l'Elec È un 3-mana 3-4 In realtà l'Elec È una carta Che sia forte come body Ma presuppone un potere Questa è una carta Che sia forte come body Presuppone un potere Il potere È che ogni volta Che voi Uccidete un servitore Chiaramente Grazie al hero power Di Jai In questo caso Voi pescate una carta È da qui che voglio partire A voi sembra forte Questa cosa? Allora Bagu Mage Va bene Sì Penso sia buono Col decay Allora caro Partirei subito Col dire che Secondo me Col decay Non è una giocata Che tu vorresti fare Perché quando tu giochi Il decay Tendenzialmente E visti comunque I numerosi tool Che c'hai di pescaggio Con il big spell mage A te non penso Che ti interessi Troppo pescare ancora Una volta giocato il decay Cioè una volta giocato il decay Tu il hero power Lo fai Per evocare i tuoi 3-6 Che frizzano E ti curano Ma non puoi pescare una carta Perché ormai Hai paura della fatica Quindi il late stage Il pyro Non mi sembra Una carta più forte O meglio ancora Non credo che In un deck Che gioca All'agina decay Come un big spell Tu possa sostituire Il pyro maniac A un acolet of pain Io credo che Per uno stile di gioco Come Che ne so Big spell mage Control mage Hand mage Il pyro Sia fondamentale E visto che il pyro Già costa 3 E scusatemi L'acolet of pain Già costa 3 Aggiungere ulteriormente Un altro pyro maniac Mi sembra eccessivo Ok Quindi secondo me Per un stile di deck Control Cioè per un deck Ne pari Ne dispari Sta carta Non penso Possa sostituire In maniera piena Il l'acolet of pain Che rimane secondo me Ancora molto più forte La cosa che ho pensato io Quando ho visto Sta carta È che possiamo Valutare In futuro L'utilizzo Di un odd mage L'odd mage È chiaramente Un mago dispari Un mago dispari Che ha un hero power Che costa 2 Ma che fa 2 danni Ora Una giocata Di turno 5 In cui voi Mettete il pyromaniac Un 3 mana 3 4 Hero power 2 danni E tradate E pescate una carta È una giocata A tempo base Secondo me Abbastanza discreta Quindi non dico Che sia Una merda È forte Anche perché Sapete bene Che con 2 mana Tendenzialmente Voi riuscite A tradare qualcosa Soprattutto se state Giocando contro aggro Quindi Mi sembra una giocata discreta A pescare una carta Il problema E qua io poi Ho fermato Le mie considerazioni Le mie considerazioni È che L'odd mage È un deck Che attualmente Non ha mai trovato Topo spazio E nell'odd mage Se noi ci pensiamo C'erano carte sbroccate Perché nell'odd mage Abbiamo una carta Che si chiama Black cat Che è un 3 mana 3 3 Che ti fa Spell damage Più 1 E pesca una carta Quindi l'odd mage La sua carta forte E dispari Ce l'aveva già Quindi uno Deve chiedersi Ma allora Scusatemi un attimo Se l'odd mage Finora non se l'è cacato Nessuno Anche se aveva il black cat Che secondo me È molto più forte Del pyromaniac Perché fa quello Che fa il pyromaniac Lo fa a 3 mana Invece che a 5 E inoltre Vi dà pure spell damage Più 1 Quindi secondo me Il black cat Da cui poi deriva Il black cat dei È molto più forte Del pyromaniac E quindi mi sono fermato Ho detto Beh Allora secondo me In control Cioè in un deck Normale La carta è sicuramente Troppo lenta Perché preferisco Tutta la vita All'agorat of pain In un deck Tempo based Come l'odd mage Secondo me È più forte Il black cat Eh? No amore Vesso è il piatto mio Scusami Che fate Ma il piatto mio Ma sei matta Ma il tuo E sì L'arena sicuramente Sarà sbroccata Sì L'arena è fortissima Stacarta E voi sapete Che non faccio mai Troppe considerazioni Per l'alena E l'arena Stacarta è forte 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 Sia come body Che come potere Niente da dire Ma in constructed Attualmente Non la vedo Così buona Ex lord Malagras È Il nuovo Loa Leggendario Del mage Ragazzi vi ricordo Che questa espansione Ha come temaggio Loa questo Questo è loa Come non è loa Certo che è loa Ma tu che giochi a warcraft Non riconosci Ma non lo riconosci Che è un troll Maledetto Guardalo È un loa Allora I loasci sono animali Prima di tutto Vabbè scusami È il prete allora Come si chiama Io pensavo che loa C'era lo sciamano Scusami È lo sciamano Capito Io pensavo che lo Possono i sciamano È lo sciamano Senti È il troll È il troll Dell'oa Non è importante Voi come sapete Questa espansione è fatta Da troll e spiriti Lo spirito del mage Non lo sappiamo Sarà sicuramente Un qualcosa Che avrà stealth Per quel turno Perché so tutte così E sicuramente La cosa che Ma perché raga Questo attaccamento Alla saga Anche se ho sbagliato Mi dovete insultare Io non la conosco La saga di world of warcraft E prima ho detto Tralli Invece era sul franco Non è il Vabbè Cristo del dio Maleroso Ex lord malacas Non dico quello che volevo dire La cosa che volevo dire È che c'è una bella sinergia Tra Questo Figlio di puttana E il loa Qualunque loa Possa Non so cosa vuol dire loa Sarà la bestia il loa Lo spirito è loa No? È lo spirito Perfetto Perfetto Quindi c'è una sinergia C'è una sinergia C'è una sinergia C'è lo sciamano E lo spirito Come abbiamo visto La sinergia con il warlock Che è una sinergia di merda Magari la sinergia Con il loa del mago Sarà una sinergia valida La carta di per sé Ha un concept L'ho rito perché questo ha scritto Che figa Emiliana Cioè l'espansione volevo dire Ah l'espansione caro sì Il concept di questa carta Secondo me è molto bello Allora ragazzi Ve lo spiego subito E voglio subito far chiarezza con voi Battlecry Aggiungi la copia Della tua mano iniziale Alla tua mano Eccetto questa carta Allora E innanzitutto quanto cazzo L'avete votata Perché vorrei Vorrei dire Sono 4 voti praticamente uguali 4 voti uguali Allora ho dato 3 Ho dato 3 Allora valutiamo un attimo insieme Cosa si intenda per mano iniziale Tatillo Vabbè Ico Che è anche tatillo Mentre leggo le ultime sub Cosa si intende per mano iniziale Quella che subito dopo Come hai passato a Mulligan Per mano iniziale Da quello che so io Si intende la mano subito dopo il Mulligan Cioè voi Non avete il coin Avete 3 carte Mulliganate Appena avete mulliganato Quelle 3 carte Sono la vostra mano iniziale Non considera il top deck Giusto? Questo è chiaro Se invece Voi avete il coin Voi mulliganate 4 carte Dopodiché Una volta che avete mulliganato Voi prendete il coin Giusto? Questa è una cosa Che non è che devi dire Sì o no Basta che ti ricordi il gioco No Il coin tu lo prendi dopo il Mulligan Non lo prendi nel Mulligan Cioè tu mallichi E poi prendi il coin Dovrebbe essere una cosa del genere Quindi secondo me Che qua poi È la questione internazionale Che ci sta sui forum È Ma sta carta Prende o no il coin? Io vi dico la mia Secondo me il coin Sta carta non lo prende E quindi non prendendo il coin Un po' il power level si abbassa E non è questo l'unico problema Cioè non è solamente il fatto Di non prendere il coin Qual è il problema Grosso di questa carta? Io ne ho dato 3 come consa Che ho dato E come Late value Perché ce ne ha parecchia Però c'è un problema Che per quanto possa essere forte Questa carta 8-5-5 Che pesca 3 o 4 carte Non è male? Dimmi Perché fai rumore? Dico no Che senza non rumore Dicono gasco d'intoli Il coin non conta Si sono d'accordo con voi Bravi Io sono d'accordo con voi Il coin non conta Però ripeto C'è Nell'internet C'è una battaglia Tra pro coin E contro coin E è una battaglia Comunque Bella nera C'è gente che insulta Quelli col coin Io ho il coin E tu no Figlio di coin Era brutta questa vero? Era terreno Era terribile vero? Figlio di coin Era brutta Che cos'è more? Deficiente Tatillo mi aiuta È un deficiente Tatillo Che ti aiuta a fare ste cazzate Quindi C'è foto Tatillo Secondo me non lo genetica Il coin viene dopo il malligan Esatto Di Esatto G È quello che credo anch'io Se prende il coin Sarebbe stata più forte Se trovi la carta nella mano iniziale O Allora se tu trovi la carta nella mano iniziale Seba Come è scritto nella carta Questa carta Non ti dà se stessa Altrimenti Capisci bene Che sarebbe stata Una specie di insecto Interessante Inception Come leggi La carta dice Accept Discard Quindi vuol dire che questa carta Non la potrai Riprendere Quando poi aggiungi la copia O È normale che I casi in cui questa carta L'avete in mano Sono remoti Sono come i casi in cui Ciò che le sette in mano io Cioè non ce l'ho mai Quindi in quel caso Va bene Ora qual è il problema di sta carta Se voi vi medesimate In uno stile di gioco Control Perché sta carta è control Sta carta è control Sta carta non è aggro Non mi andate a di Che mi tengo sette fireball Per avere poi sette fireball Perché tu una partita Non la vinci con le fireball In early game Tu la partita in early game Come la vinci Tu ragazzi La partita in early game La vincete Tu ragazzi No Tu ragazzo La partita in early game La vinci Se Con il coin Se keep Fate della rovina Accurate of pain Il corvo Quindi la mia domanda Una carta che in late stage Ti ridà Una mano iniziale Basata per sopravvivere All'early game È forte Avete capito qual è il mio punto di vista Cioè Questa carta vi ridà Delle carte Quindi vi dà vantaggio Carte il che è utile Ma vi dà delle carte Che sono carte che a voi servono Per l'early game Non vi servono per il late stage È anche vero È anche vero il contrario Uno che voi Mallicanate di merda E quindi mallicanando di merda Voi non vuoi Se voi arrivate a Malagras Avete buone carte Oppure Voi vi kippate Al mallican Delle carte Solo Per avere value Poi con l'Armalagras In un deck Come il big spell Voi secondo me Questa cosa Potete anche permettervela Cioè In un big spell Voi secondo me Potete permettervi Di lasciare Un defender Che è buono anche il late Di lasciare La sette mana Cinque cinque Che evoca un servitore In base al numero Di carte che avete in mano Cioè voi potete lasciare Questi keep Poi con Malagras Se noi ricordiamo Ragazzi Che l'ansietto floor Era un sette mana Cinque cinque Pesca due carte Ed era OP Questa è un'ottomana Cinque cinque Pesca tre o quattro carte È sicuramente Molto molto forte Però dall'altra parte È molto lenta Io ricordo Che ottomana Esiste Sindragosa E Sindragosa Tra le altre cose Scomba pure Con l'eropower Sindragosa Vi dà vantaggio Carte di due Che sono due leggendari Quindi mettere sta carta Al posto di Sindragosa Attualmente Non mi sembra Non mi sembra Una cosa troppo forte Troppo forte Abbiamo Un'altra Cosa da dire Su questa carta Questa carta Probabilmente voi L'avete già scritto Lasciare È forte Manti sinergia Caro Alanna No Alanna non si può togliere Da un mage No Alanna Poi costa nove Questa costa otto A livello di curva di mano Devi scegliere Se lasciare Malagras O se toglie Sindragosa O Lich King Tu toglieresti Il Lich King Per Malagras Tu toglieresti Sindragosa Per Malagras Tu metteresti In un deck Malagras Lich King Sindragosa È questo che devi pensare In un big spell Chiaramente In un big spell Secondo me Troppi drop a otto Non è facile poi Cioè nel senso Capito che il big spell Ha un sacco di removal Però Cioè deve arrivare a turno otto Non è sempre facile Un'altra cosa Che apre le strade A nuovi deck O meglio Non nuovi deck Ma che potrebbe essere Un tool aggiuntivo A un deck Che inizialmente Che poco tempo fa Poco Relativamente poco tempo fa Faceva i culi È il quest mage La quest del mage Che voi chiaramente Tenete al malligan Quindi comunque Il Malagras Vi regala una seconda quest In una partita Far due volte la quest Potrebbe essere molto lento Ma se fate il giusto deck Far due volte la quest In una partita Potrebbe essere veramente Molto 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 forte Inoltre Le carte che vi dà Malagras Visto che non derivano Visto che non provengono Dal vostro deck iniziale Le carte che vi dà Malagras Inclusa la quest Sono tutte carte Che vanno a fare L'upgrade della quest stessa Ora Io credo Che un deck quest Di questo tipo Sia veramente Tanto 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 lento Però Noi non possiamo Non dirla sta cosa Cioè nel senso Cazzo La sinergia con il quest È evidente Quindi io la devo dire Che c'è sinergia con il quest È fondamentale Cioè è evidente Che c'è Io una cosa voglio dire Per concludere Con questa carta Che Se l'espansione scorsa Ho detto che la blizzard Sta un po' trascurando Il tempo game Per andare Verso un Value late game Io credo Che la blizzard Abbia proprio detto Guardate Io Noi Continuiamo Verso la nostra strada Vaffanculo il tempo Noi continuiamo A sfornare carte Che hanno una forza E una potenza In late Io ho seriamente paura Perché Come abbiamo capito Se il deck Se il meta Ci toglie Lo stereotipo L'archetipo Aggro È un problema Devono Secondo me Nascere nuovi deck Aggressivi O mid range O tempo Devono Nascere nuovi deck Che non siano chiaramente Solide come Zuu Devono nascere nuovi archetipi In modo da velocizzare Le partite Perché far partite In cui giochiamo Con warrior Con mage Magari con malagras Con druido Eccetera eccetera Per un casual player Che magari si fa una cagata E può farsi due partite Non va bene Non va bene Perché non solo La cagata dura tre ore Te la fa dura tre ore Poi sta cagata Eppure frustrante Perché tu magari perdi Dopo che hai investito Parecchio tempo Della tua giornata Peraltro nel cesso E qualcuno lo vuole sgradevo Finiamo la nostra car review Con l'ignoranza Che tanto è attesa E meritiamo No Finiamo la nostra car review Con una spell Per il ladro Sei mana Chiamasi Carror Barrage Questa cagata è l'ultima carta rivelata E non so Nel frattempo L'ho tolta tutto il filo Non so per qual motivo Non so Fino a quando Avremo notizie Della nuova espansione Non so quando Verranno rilevate E rivelate Scusate Io penso Per la prima metà del mese Già potremmo Vedere Le nuove uscite E quindi far car review Volta per volta Questa è l'unica carta L'ultima carta Che ci hanno presentato Al Blitzcon Chiamasi Carror Barrage Ho detto E fate danni a un servitore E si ripete l'effetto Per ogni pirata Che abbiamo Che controlliamo E sia chiaro Ogni pirata Che noi abbiamo in bordo No Of each of your pirates Cioè questo significa Per ogni pirata Che controlli Nella tua board Fermo restando che Anche in questo caso Il concept A mi piace parecchio No Perché dai Come te fa Non piace una cosa del genere Che fa tre danni Per ogni pirata Che controlli O meglio Cioè nel senso A mi piace molto Parlare di Di situazioni Allora Situazione Siamo un odd rogue Ah ricordate una cosa Prima che inizio Le spell del ladro Sapete tutti Perché costano sempre più Rispetto al potere No Per prep Quindi non diciamo Che la spell costa tanto Perché Finché esiste prep Questa spell può costare tre Ok quindi Se questa spell costa tre È normale che op Quindi essendoci prep Le spell del ladro È normale che costino Sempre un pochino di più Rispetto al potere La forza del cannon barrage Che io non so Quanto voi l'avete votato Magari me lo dice Enrico Dipende da quanto Un secondo Dipende da quanto Sarà forte Il pirate rogue Con pirate rogue Non intendo Quattro Beh Diciamo che tre Tre è anche più Che sufficiente Però prezzo il 4 Perché è una carta Che può dar veramente Una swingata Glamorosa Dicevo Dobbiamo capire Quanto il pirate rogue Può andar forte Noi abbiamo visto La scorsa volta Vediamo un attimo Se ve la faccio rivedere Se magari voi Non ce l'avate ieri Eccola qua Noi abbiamo visto Lo shocking fun Lo shocking fun È un pirata Che ogni volta Che voi attaccate Evoca un pirata 1-1 Abbiamo detto Che in ottica Even rogue Questa carta Non è male Perché voi De turno 1 Settate la dagger Turno 2 Giocate lo shocking fun Che è un turno 2 Che evocate una 3-3 E evocate già due pirati Ora Se le cose Dovessero andare in curva E Per assurdo Voi giocate Il cannon barrage Il turno dopo E avete la prep Voi potete attaccare Nuovamente con l'arma Questa chiaramente Ragazzi è un'ipotesi rara Perché vuol dire Che vostro avversario Mi sta a guardare E non fa niente Mi sembra abbastanza stava Però Se le cose vanno così Voi riattaccate con l'arma Evocate un pirata Siete nella situazione Che avete 3 mana E 3 pirati in board Fate prep E giocate barrage Barrage Incluso il danno Cioè Escluso il danno Che fanno poi Pirati in board E escluso il danno Che fa l'arma Il barrage Fa 3-6-9 Fa 12 danni A 3 mana Quindi vuol dire Che se voi già Controllate 3 pirati Il cannon Barrage Fa 12 danni Questo vuol dire Che se voi controllate Un pirata Il carror Barrage A 6 mana Se voi avete Solo un pirata Comunque fa 6 danni Già con 2 pirati Secondo me La value è interessante No E' un 6 mana Che fa 9 danni Ricordiamo Che la spell Del mage Era una 7 mana Vi ricordate 7 mana Che tira 3 missi Da 3 danni Questa è Semana Che fa Comunque Lo stesso Numero di danni Con 2 soli Pirati in board Io credo Che per un pirate Rogue Avere 2 pirati In board Sia una cosa Abbastanza standard Ora E' inutile Pensare Che noi abbiamo La board Filata di pirati Perché se noi Abbiamo 5 pirati In board Io ho capito Che Escluse danni Dei pirati Questa carta Fa 18 danni Però se voi Avete 5 pirati In board E voi siete In controllo Di board La partita Credo che sia Attualmente vinta Quindi credo Che il cannon Possa essere Più o meno Per lo più Una win more card In quello spot Però è anche vero Che ci sono degli spot In cui voi avete Meno pirati E il carralberge Potrebbe servirti Avete delle combo Da fare? Volendo si Su zi Su zi Giocate lo sharfin Che sarebbe questa Quindi su zi Sharfin E cannon barrage Evocate 2-2-1 Evocate uno sharfin fan Attaccate con l'arma Evocate un 1-1 Sono 4 pirati In cui avete 4 danni in board Più i danni Del cannon barrage Sono 19 danni Sono 19 danni Total Chiaramente Se non lo siamo Pre Poi se possiamo prep Possiamo ancora fargli Più danno Insomma E' una carta Secondo me Che se un deck Rogue pirate Potrebbe rivelarsi Estremamente solido Raga Il carralberge Che poi lo chiamo Carral Pagannon Vabbè Sta carta qua Funziona Solo se il deck Pirata è estremamente Solido Solo se voi Sta carta La giocate un po' Come avenging wrat No? Avenging wrat Dell'event pala Per quanto è Solido il deck Con equality Con consagreti Con il pyro Cioè voi Avenging wrat La giocate praticamente Senza Inoltre Avenging wrat Fa 8 danni Senza nemmeno avere Condizioni su board Questa ha condizioni su board E le condizioni Sono i pirati Quindi il deck Pirata deve essere Altamente consistente Altrimenti Sta carta Rischiamo di non Vederla mai Perché poi Se noi facciamo Un board con i pirati L'avversario Gioca spending plug E capisci bene Che spending plug È troppo forte Per il cannon Barrage Cioè nel senso Che Cannon barrage Spending plug La intacca Veramente Veramente poco Poi se noi Filiamo la board Di pirati L'avversario Ci giocano E qui dobbiamo Essere veramente Bravi A capire quando Giocarla E soprattutto Bravi A bravi Poco bravi Bravi che vuol dire Dobbiamo capire In base alle carte Che usciranno Quando un Quanto un pirate Possa essere consistente E solido Allora Dovete leggere A me sta carta Perché sto leggendo Cati delle cafonate Sta carta fa 3 danni E l'effetto Si ripete Per ogni pirata Quindi vuol dire Che questa carta È una semana Fa 3 danni Chiaramente è una cagata Semana fa 3 danni È normale Che se tu c'hai pirati L'effetto si ripete Quindi con un pirata Sono 6 danni Con 2 pirate Sono 9 Eccetera eccetera Quindi Il fatto non è che Fa 3 danni Per ogni pirata Fa 3 danni E poi ripete L'effetto Per ogni pirata Altrimenti sarebbe stata Una merda Fai 3 danni Per ogni pirata Sarebbe stata Bruttissima Perché Poteva essere Una 6 mana Fai niente Cioè 6 mana Non ai pirati Non fai danno Quindi non è una cosa Per dire Ah si Con l'accolito Di Gobold Hai ragione Quando tu pensi Come utilizzare Maligos Per cittare in mana E non giocarlo a 9 Tu pensi a Accolito dei Goboldi E all'arma Quindi l'arma La spella 5 Sfrutti del tratto Del Coboldo Ed evochi Maligos Il problema caro Che secondo me Questa carta Non va bene In un deck Che non abbia i pirati Quindi questa carta In un deck Con Maligos A meno che veramente Non ti puoi fare Un Maligos Pirate Ma un Maligos Pirate Fa schifo Perché lo stesso Coboldo Come il Rantello di Morte Potrebbe metterti Un pirata dalla mano Visto che comunque I pirati sono parecchi Tu in un Maligos Trocchi invece C'è naturalmente Il Cerca Coso C'hai il Coboldo E c'è Maligos Quindi il più delle volte Anzi il 99% delle volte Quando giochi l'arma Tu sai perfettamente Che evochi Maligos Dalla mano Quindi In un Pirate Questa cosa Non credo che Che possa essere Che possa essere forte